Ok, allora, buongiorno a tutti, oggi come abbiamo pronunciato già nella giornata di ieri, proveremo a fare qualche esercizio in cui ci cimentiamo con i due argomenti che abbiamo toccato ieri, che sono quelli del controllo dei dati d'ingresso, dell'input e quello delle scelte, quindi l'organizzazione di algoritmi che contengono al loro interno delle scelte di tipo if then, anzi if else oppure if elif else, usando i costrutti di scelta che abbiamo imparato. Allora, ieri su Slack vi ho suggerito di cominciare a pensare a questo esercizio che appunto ci apprestiamo a risolvere oggi, immaginando di avere una scacchiera tradizionale, insomma quelle delle partite da scacchi, di 8x8 caselle, sapendo che le righe di questa scacchiere sono numerate con i numeri dall'1 all'8 e le colonne sono identificate con le lettere alfabetiche, le prime lettere d'alfabeto, quindi quelle che vanno dall'A alla H, l'esercizio richiedeva la seguente cosa, data le coordinate di una casella scritte in questo formato dall'utente, ad esempio G5, B4 o quello che sia, quindi l'utente inserisce le coordinate di una casella secondo questo standard, il programma deve dirci se questa casella, ammesso che i dati siano corretti, siano validi, se questa casella è una casella bianca oppure nera, quindi in questo caso la casella G5 è considerata una casella nera, è vero che questa figura sono due toni di grigio diversi, ma in realtà quelle scure rappresentano le caselle nere e quelle chiare rappresentano le caselle bianche della nostra scacchiera. Quindi questa è un po' la specifica del programma, relativamente semplice, se dovessi scriverla sotto forma di testo, mi tengo da parte questa scacchiera perché poi ci servirà per ragionarci sopra, per scrivere sotto forma di testo io mi sono preparato un file qua, scacchiera.python, in cui possiamo provare a scrivere, vediamo un po' se riesco a scriverlo come stringa, l'esercizio è data, diciamo così, scrivere un programma che acquisisca dall'utente le coordinate di una casella della scacchiera, apparente nel formato G5 ad esempio, e determini se la casella specificata sia bianca o nera. ok? Questa è la specifica molto sintetica di quello che vogliamo fare. Adesso cominciamo a ragionare sul come, cosa deve fare il programma, come lo possiamo organizzare, quali sono le macro sezioni di questo programma. Proviamo a fare una progettazione top down di un algoritmo possibile, quindi quali sono le fasi attraverso cui questo programma dovrà lavorare. Allora io ci vedo una prima fase, la metto come commento, uno acquisisci i dati, una fase due che è controlla la validità dei dati, nel caso in cui i dati siano validi ho una fase tre in cui determina determina il colore della casella, il colore della casella e poi seguito da una ultima fase che è stampa il risultato. questo potrebbe essere una possibile sequenza di azioni svolte dal programma. e poi andremo per ciascuna di queste fasi, io qui lo sto scrivendo come pseudocodice sotto forma di commenti. Poi via via andremo a dettagliare sempre di più questi commenti e strutturando un po' meglio lo pseudocodice man mano che capiremo che algoritmo applicare e dopodiché fuori dal commento scriveremo il codice python corrispondente, così in automatico avremo un programma che evolve dallo stato di pseudocodice allo stato di programma vero e proprio in ogni momento. Andrea mi chiede cosa ho fatto qua sulla riga 1, come ho scritto questo commento iniziale. allora giustamente uno dei formati, noi abbiamo imparato che le stringhe si possono costruire in python, si possono costruire con gli apici singoli oppure con gli apici doppi, in realtà esiste un terzo formato di stringa che è quello con gli apici tripli, singoli o doppi a preferenza, quindi si può anche costruire una stringa così, apice triplo A oppure apice triplo singolo, quindi tre volte l'apice singolo. La differenza qual è? E' che le stringhe che sono delimitate da tre apici possono anche essere su più righe, cioè mentre quando io apro una stringa normale devo aprirla e chiuderla sulla stessa riga, quando ho una stringa con tre apici questa può anche iniziare su una riga e finire sulla riga successiva. Quindi è un modo per costruire delle stringhe che al loro interno contengono anche dei caratteri di a capo. Punto, questa qui è, se vogliamo, una delle sintesi possibili per le stringhe. Qui che cosa ho scritto? Ho scritto un'istruzione che crea una stringa e non ne fa nulla, no? Quindi è come se io scrivessi un'istruzione del tipo nome uguale a b c, allora crea una stringa e poi la memoria di una variabile, ok? Questo lo sappiamo fare. Però io potrei scrivere benissimo, non serve a niente a b c, che cosa fa? Calcola questa stringa, questa variabile e non ne fa nulla, non la salva da nessuna parte. Ok? Allora un'istruzione di questo genere non fa nulla, non ha nessun effetto pratico, no? Semplicemente l'interprete guarda questa stringa e dice, va bene, ho fatto una stringa a b c, cosa me ne faccio? Nulla, vabbè, me la dimentico subito dopo. Quindi dal punto di vista della sintassi questo funziona, non dà errore, ma non fa nulla. Ecco, questa è la stessa cosa. A volte per scrivere dei blocchi di commento, anziché mettere tutti i cancelletti davanti ad ogni riga, che poi diventa complicato se devo spostare il testo da una riga all'altra, lo includo direttamente in una stringa con tre apici. E questo di fatto è una parte di programma che crea una stringa, ma non fa nulla con quella stringa, la ignora e quindi di fatto è come se fosse un commento, no? Allo stesso ruolo di un commento c'è avere un testo che rimane scritto nel programma, ma che in realtà non fa nulla. Io se volessi qua potrei scrivere A uguale questa stringa qua. Python, cioè il PyCharm è abbastanza furbo, come vedete cambia il colore, qui me lo fa vedere verde, perché capisce che è una stringa che sto usando, se io tolgo questa segnazione me la mette grigia perché capisce che è una stringa da usare come... cioè una stringa che viene usata sotto forma di commento. In realtà vedremo più avanti quando faremo le funzioni, ci sono anche delle convenzioni che Python stesso capisce, perché se mettiamo delle stringhe di questo genere in certi punti del programma, automaticamente vengono convertite in documentazione del programma stesso. Però questo ci arriveremo quando faremo le funzioni. Quindi si usa questo trucco di una stringa inutile, stringa inutilizzata a modo di documentazione. da alcune parti queste sono chiamate anche documentation string, cioè stringhe usate come documentazione. Ok, quindi questo è comodo soprattutto se dobbiamo descrivere delle parti che occupano più righe. Allora, acquisirci i dati è facile, torniamo un po' all'algoritmo. Allora, acquisirci i dati, controllo di valdità dei dati, determina il colore della casella. Allora, su acquisirci i dati è facile perché basterà fare una lettura del dato stesso. Controllo di valdità dei dati, dovremo fare un po' di controlli sul fatto che quali sono i controlli di valdità che dobbiamo fare. Allora, sicuramente le coordinate della casella dovranno essere... Devono essere presse, devono essere una stringa di due caratteri, di cui il primo una lettera che va dall'A alla G, il secondo una cifra che va dall'1 all'8. giusto? Andiamo a... no, al 9, all'8. Andiamo a vedere. E infatti è già sbagliato, è da A alla H, non alla G. Quindi dall'1 all'8 la seconda cifra, il secondo caratteri della stringa, però il primo è da A alla H. Quindi non G, se già sbaglio è qua. Quindi dobbiamo fare questi controlli. che l'utente abbia effettivamente inserito una cosa di questo tipo. Poi possiamo decidere di essere più o meno flessibili, del tipo... ovviamente una stringa del tipo B7 funziona, una stringa del tipo Z9 non funziona. Però cosa devo fare se l'utente inserisce A2 con l'A maiuscola anziché l'A minuscola? Possiamo decidere di accettare anche se il numero di colonne è scritto con la lettera maiuscola? Beh, direi di sì, dai, non ci costa molto. E se invece l'utente scrive, anziché B7, scrive 7B? E in questo caso cosa facciamo? Beh, io sarei per non accettarla questa, perché non posso confondere le righe con le colonne. Sono tutte domande che ci dobbiamo fare per poi decidere, diciamo così, la regoletta specifica da utilizzare, per decidere se accettare oppure meno una coordinata. Così come se l'utente inserisce solamente, che ne so, A, non va bene, se l'utente inserisce qualche cosa di diverso, che ne so, B7C o qualunque altra cosa, non va bene, cioè perché deve essere esattamente i due caratteri, il primo carattere è esattamente la colonna, e il secondo carattere è esattamente la riga. Quindi facciamoci, anche almeno a mente, ma possibilmente, diciamo così, scriviamoci, degli esempi di che cosa vogliamo accettare, possiamo accettare, di che cosa invece dobbiamo rifiutare, dobbiamo controllare. Non so se siete d'accordo con queste scelte in cui, vabbè, considero anche che la lettera possa essere maiuscola, non considero invece valido il caso in cui la lettera venga per seconda, anziché per prima, e sono molto rigido sul fatto che la lunghezza deve essere esattamente due. Quindi se B7C uno potrebbe dire sì, ma dai il C lo ignoriamo, quindi prendiamo come buono B7. No, cioè se devi inserire una coordinata di due lettere, due devi usare e basta. Quindi qua abbiamo un pochino spiegato, provato a spiegare, innanzitutto a noi stessi, che cosa vuol dire controllare che i dati siano validi. A questo punto, poi scriviamo il codice, però prima chiediamoci se sapremmo risolvere il programma. A questo punto c'è il punto 3 che dobbiamo chiarire, determina il colore della casella. Quindi quando arrivo al punto 3, io so già che i dati sono validi, l'ho già verificato prima. Quindi sono sicuro che la colonna è esattamente una lettera tra l'A e l'H e sono sicuro che la riga è esattamente una cifra tra l'1 e l'8. Nella chat Alexis mi scrive, ma potremmo definire delle lettere e numeri che sono validi? Sì, questo fa già parte del come faccio a verificarlo. Per ora mi sto solo chiedendo che cosa devo verificare e poi dopo ci inventiamo un modo per riuscire a distinguere e dire che B7 va bene e Z9 no. Poi ci inventiamo come quando passeremo al codice, no? Python, per farle, confrontiamo le variabili, penseremo a dei modi possibili, no? Per il momento sono ancora a passo precedente. Ragiono sul fatto di che cosa deve fare il programma e se io sarei capace a farlo a mano in certo senso, no? Che ragionamento, che passaggi faccio. Determino il colore della casella. Più facile a dirsi che a farsi, perché alla fine io guardo questa scacchiera e lo vedo che G5 è una casella grigia. Perché G5 è una casella grigia? Qual è la regola generale? Allora, io so che A1 è una casella nera. Ok? Quindi la casella che si trova nella prima riga, nella prima colonna, è nera. La casella che si trova nella seconda riga, seconda colonna, la B2 è anch'essa nera. Mentre invece la A2 e la B1 sono bianche. Quindi quello di cui mi accorgo è che se io avessi anche le righe numerate, no? Dall'1 all'8, potrei fare un ragionamento sulla somma del numero di righe e numero di colonna. Ok? Quindi se le colonne fossero anziché A, B, C, D, E, anch'esse 1, 2, 3, 4, 5, potrei dire fai la somma della riga con la colonna. Quindi G sarebbe la colonna numero 7, la riga 5, 7 più 5 fa 12, 12 è pari e quindi è nero. Così come 1 più 1, qua sotto nell'A1, era pari e quindi abbiamo deciso che questa casella è nera. Vediamo l'H1, H vale 8, no? In questa nuova nostra numerazione, 8 più 1 fa 9, 9 dispari, quindi la casella è bianca. Quindi un criterio potrebbe essere quello di dire, per determinare se il colore è la casella, innanzitutto determina il numero della colonna. E quindi per dire A vale 1, fino a H che vale 8. A questo punto calcola la somma del numero di riga più il numero di colonna. Se questa somma è pari, allora la casella è nera, altrimenti è bianca. Attenzione Michele, tu mi stai dando una soluzione parziale, mi stai dicendo che stai confrontando se la riga e le colonne sono pari o dispari e tu mi dici le caselle nere sono pari pari oppure dispari dispari, sì, è vero, scusate. Quindi le altre due combinazioni, avevo letto male il tuo messaggio, le altre due combinazioni, cioè pari dispari oppure dispari pari, mi danno le caselle bianche, che è un altro modo di dire che la somma dei due numeri di riga e colonne, questa somma è pari, perché una somma di due numeri interi è pari se i due numeri sono entrambi pari o entrambi dispari. Mentre invece la somma di due numeri interi è dispari se dei due uno è pari e l'altro dispari. Quindi stiamo dicendo la stessa cosa semplicemente esprimendola in modo leggermente diverso, ma la sostanza è esattamente la stessa. Allora questo può essere il nostro algoritmo. È un possibile algoritmo, non è l'unico. Un altro algoritmo, io questa scacchiera qui l'ho presa da un esercizio del libro. Il libro ci propone invece un algoritmo diverso, in cui dice, guarda, tu prima capisci se sei nelle colonne A, C e G, oppure nella colonna B, D, F, H. E allora fai due versioni diverse. Se sono in una di queste colonne, allora le caselle pari sono bianche, se sono nelle colonne B, D, F, H, invece le righe dispari hanno le caselle bianche. E' un altro modo di affrontarlo, che non richiede di convertire, di trattare il nome della colonna come se fosse un numero, come invece io ho pensato di fare. Non c'è una soluzione più giusta dell'altra, sono semplicemente, diciamo così, risultati di ragionamenti diversi. Ok, a questo punto possiamo passare a scrivere il codice, se non avete altri dubbi o se è tutto chiaro finora. Passare a scrivere il codice vuol dire, prima di tutto, decidere delle variabili all'interno delle quali andiamo a mettere le informazioni che ci servono. Quindi il primo punto è acquisire i dati, quindi trovo una variabile, posso chiamare la casella, visto che ho sempre chiamato le coordinate di una casella, la posso leggere da tastiera chiedendo di inserire le coordinate di una casella. E faccio un esempio, magari, esempio G5. Ok? Quindi uso l'operazione di input per leggere una stringa. E fin qua è facile. Ok? L'utente inserirà qualcosa e noi ce l'avremo in questa stringa casella. Adesso dobbiamo cominciare a fare una serie di controlli su questa stringa. Noi vogliamo che questa stringa casella rispetti questi vincoli che ho indicato qua. Quindi, innanzitutto, deve essere esattamente i due caratteri. Quindi, per rispondere a Marco, se l'utente scrive, anziché G5, scrive G-5, non è valido. Non è un input valido. E quindi dovremmo dire, guarda, le coordinate non sono scritte nel formato corretto. A meno che decidessimo di permettere che tra la riga e la colonna ci sia un trattino, e allora a questo punto l'avremo scritto nelle specifiche. Sopra avremo già scritto non nel formato G5, ma avremo scritto nel formato G5, oppure G-5. E allora il programma si dovrebbe attenere a quel formato. E quindi poter vedere se la stringa è lunga 3, allora il carattere di mezzo deve essere un trattino, e allora il numero di colonne non è il secondo carattere, scusate, il numero di riga non è il secondo carattere, ma il terzo. E così via. Invece qua abbiamo deciso di essere fiscali sul tipo di formato. Allora, la prima controlla da fare è facile. La stringa deve essere lunga due caratteri. Allora io questo lo posso tranquillamente scrivere controllando se la lunghezza della casella fosse diversa da 2. Allora, mi conviene, visto che io scelgo di applicare un po', ricordate l'esercizio di ieri sul termo di Pitagora, prima controllavo delle condizioni anomale. IF un problema, ELSEIF un altro problema, ELSEIF un altro problema, e alla fine nell'ERS finale finalmente ero sicuro di non avere nessun problema e potevo fare i calcoli, ok? Quindi io qua potrei scrivere se la lunghezza della casella è uguale a 2, allora vuol dire che va bene, oppure scrivo la lunghezza della casella è diversa da 2, allora vuol dire che non va bene. Allora, se la lunghezza della casella è diversa da 2, allora non va bene e quindi il programma si interromperà stampando un messaggio formato errato. Ad esempio. Oppure se vogliamo essere più gentili, diciamo, usiamo una fstring dicendo la casella casella è nel formato errato. virgola è lunga len di casella caratteri anziché a 2. No, qui sto spiegando che quello che ha inserito c'è la casella g-5 ad esempio è nel formato errato perché è lunga 3 caratteri anziché 2. Poi il messaggio d'errore può essere più o meno dettagliato, dipende un po'. Altrimenti vado avanti. Quindi se questo è sbagliato faccio un upprint, altrimenti vado avanti, proseguo e a fare gli altri controlli. Quindi else else è tutto ok, else vado avanti. In realtà non è tutto ok perché devo ancora fare altri controlli. altri controlli sul fatto che la prima lettera effettivamente sia comprata tra e h e il secondo sia una cifra tra 1 e 8. Allora, a questo punto mi conviene visto che a questo punto, a questo else, sono sicuro che questa casella ha due caratteri, sono sicuro, posso separare il problema della riga dal problema della colonna. Quindi io posso dire che la colonna è il primo carattere di casella e la riga è il secondo carattere di casella. quindi se casella fosse appunto B5 vuol dire che nella colonna ci va a finire ad esempio casella di 0 G e nella riga ci va a finire ad esempio 5. Sono sicuro che queste due istruzioni non danno errore perché sono sicuro che esiste una posizione 0 e una posizione 1 della stringa perché ho appena verificato che questa lunghezza è certamente uguale a 2. Se non fosse uguale a 2 mi sarei fermato qua. Avrei dato questo errore. E a questo punto posso andare avanti con i controlli successivi. Quindi se la casella è uguale a 2 allora posso fare questa estrazione. Prima non la potevo fare. Cioè queste due istruzioni la 15 e la 16 non le potevo mettere qua davanti. Perché a questo punto se casella fosse stata troppo corta avrei avuto un errore. Perché potrevo estrarre casella di 1 da una stringa lungo un carattere solo e questa dava un errore perché non esisteva magari. Quindi io posso estrarre da casella 0 a casella 1 il primo e il secondo carattere solamente quando sono sicuro che la stringa effettivamente ce li ha questi caratteri. L'altra cosa che posso fare è ovviamente qua la secondo carattere della riga è ancora una stringa qui non ho scritto 5 come numero ho scritto 5 come stringa che contiene il segno 5 al suo interno ok? Perché estraggo una carattere da una stringa quello che ottengo è una stringa ancora. Più avanti mi servirà a convertirlo a averlo come numero intero quindi prima o poi dovrò fare un int su questa casella. Domanda per voi se scrivessi questo farei bene o farei male? Cioè dico vabbè visto che sta roba qua è un numero e prima o poi mi servirà usarlo come numero intero perché ci devo fare la somma a vedere se pari o dispari allora già che lo estraggo lo converto direttamente in numero intero quindi questo qui non sarà 5 scusate tra apici ma sarà semplicemente il numero intero 5 secondo voi faccio bene o faccio male? Allora chi mi dice che fa bene ha molta fiducia nei propri utenti perché funziona bene nel caso in cui effettivamente ci sia un numero ok? ma se per caso l'utente anziché scrivere G5 avesse scritto che non so GG allora io casella di 1 esiste e vale G ma quando provo a fare l'int di G il programma mi dà un errore ok? vediamolo direttamente interattivamente ok? vediamo cosa succede fatemi togliere questo int così lo riguardiamo meglio allora noi abbiamo possiamo far partire questo programma in modalità debug e ci fermiamo qua per andare a analizzare le varie variabili ok? quindi ho messo un breakpoint qua in questo punto e chiedo di eseguire questo programma in modalità debug quindi lui parte si fermerà a questo punto così potrò andare passo passo a ragionare sulle variabili ok? allora vado in modalità debug il programma parte mi dice inserisci le coordinate di una casella facciamo il bravi scriviamo G5 ok? quindi quando batto l'invio viene eseguita all'istruzione di input e il programma si ferma alla riga 12 che è quello su cui ho messo il breakpoint dove vedo che la variabile casella è una stringa che contiene due caratteri G e 5 ok? G e 5 lo fa vedere sia qua sotto con l'elenco delle variabili il debugger sia direttamente se vado sul codice mi fa comparire io poi adesso mi sto chiedendo la lunghezza della casella di questa stringa casella è una stringa vedo che ha due caratteri se fosse diversa da due avrei un problema il simbolo punto esclamativo uguale è il simbolo di diverso per rispondere a Ivan quindi il diverso si scrive punto esclamativo uguale non uguale si legge quindi in questo caso questa condizione la lunghezza della casella è diversa da due è una condizione vera o è una condizione falsa? è una condizione falsa non è vero che la lunghezza della casella sia uguale a due lo posso anche mi pare che ecco posso anche qua dentro il debugger se voglio verificare le cose posso anche fare c'è un menu qua vedete valuta espressione in cui io posso scrivere l'end di casella e gli chiedo valuta e mi dice due posso addirittura valutare se l'end di casella è diverso da due che è la condizione che ho scritto nella if e mi dice falso quindi quando sono in modalità debugger non solo posso vedere il valore delle variabili ma posso anche farci dei conti sopra per capire meglio cosa succede nel programma quindi io so che questa condizione l'end casella diverso da due è falsa proprio perché l'end di casella la lunghezza della stringa è uguale a due e quindi posso prevedere facilmente che questa print della riga 13 non verrà eseguita perché la sua condizione è falsa e quindi passeremo se io faccio un passo avanti qua con il debugger salterò dalla riga 12 non alla 13 bensì alla 15 e infatti se sono andato avanti sono arrivato alla 15 adesso casella di 0 casella di 1 che cosa sono? allora usiamo il trucco che abbiamo appena imparato valuta l'espressione così ci possiamo giocare casella abbiamo detto che è una stringa lunga due caratteri casella di 0 cos'è? e sarà una stringa di un carattere solo che contiene in questo caso la g minuscola casella di 1 sarebbe il secondo carattere di questa stringa in questo caso il 5 il 5 sotto forma di stringa anche per riprendere quello che diceva Maddalina ma che differenza c'è? in questo caso ho una stringa di un carattere solo quindi vedete che qui c'è scritto che è una stringa è rappresentata tra apici che è lunga un carattere solo e questo carattere casualmente è un carattere numerico ma lei a tutti gli effetti è una stringa se io infatti provassi a fare un più 1 di questa cosa qua mi dà errore perché mi dice attenzione non puoi sommare una stringa con un numero perché quello non è un numero è una stringa ancora se volessi avere il numero corrispondente devo prendere la funzione int che riceve come parametro una stringa e mi restituisce come risultato un numero intero corrispondente alla stringa stessa al valore decimale che c'è scritto dentro la stringa ok? quindi il modo per estrarre un numero da una stringa che al suo interno rappresenta effettivamente un numero no? allora eravamo arrivati qui chiedendoci era meglio memorizzare dentro la riga int casella di 1 oppure casella di 1 allora sembra che effettivamente se casella di 1 è un numero lo valuto mi dà già l'intero ed è più comodo per me perché per sapere se è pari o dispari ce l'ho già come numero il problema nascerebbe nel momento in cui l'utente quindi anziché casella di 1 anziché esserci un 5 e chiaramente il suo valore intero è 5 al posto l'utente sbagliasse come dicevo prima se scrivesse gg come casella casella di 1 vale gg e quindi fare l'int di una stringa che non contiene al suo interno la rappresentazione di un numero intero mi dà un errore e quindi il programma genererebbe un errore allora la mia conclusione qual è? è che io posso applicare la funzione int su una stringa se sono già sicuro che quella stringa contiene un numero altrimenti sto rischiando di generare un errore nel caso in cui l'input sia sbagliato quindi prima devo controllare se è un numero e poi devo posso convertirlo in intero ok? posso estrarre il numero effettivo allora per vedere questa finestra di evaluate innanzitutto io sono andato in modalità debug ok? quindi ho fatto partire il debugger cioè il programma con la modalità debug avendo messo un breakpoint e poi nella finestra delle variabili qua sotto tasto destro valuta espressione e questo mi tira fuori questa finestrella nella quale abbiamo giocato e possiamo abbiamo potuto vedere le variabili questo è comodo perché mi fa vedere mi fa lavorare con le variabili che sono fotografate in questo momento nel programma non è come io avrei potuto aprire una console e giocarci sopra no? come facevamo ieri però avrei dovuto crearmi delle variabili mie all'interno della console invece qui sono in modalità debugger quindi mi fa vedere direttamente ok allora tutto questo era per dire adesso stoppo il programma torniamo alla scrittura era per dire che posso estrarre facilmente la prima e la seconda elemento ma mi conviene non convertire ancora nella riga nella colonna in numeri interi adesso le abbiamo e dobbiamo verificare questa condizione qui il primo cioè la colonna deve essere una lettera tra A e H allora innanzitutto però abbiamo detto che se anche l'A fosse maiuscola andrebbe bene lo stesso giusto? allora quello che dovremmo fare è convertire nel caso in cui la colonna fosse una lettera maiuscola convertirla in minuscolo quindi si potrebbe usare anziché casella di 0 colonna uguale a casella di 0 potrei dire ma la casella di 0 la convertiamo in minuscola allora c'è la funzione lower che è uno di tanti metodi sulle stringhe che prende una stringa e la converte in minuscolo quindi in questo caso se casella di 0 era già una lettera minuscola va bene rimane minuscola se casella di 0 fosse stata una lettera maiuscola una G grande allora sarebbe stata comunque convertita in minuscolo e poi memorizzata dentro colonna in qualche modo sto cercando di normalizzare il formato dei dati ricevuti quindi l'utente lo può scrivere maiuscolo in minuscolo ma io all'interno me lo porto comunque in minuscolo usando ad esempio il metodo lower che restituisce una stringa modificata questo lo potrevo mettere qui oppure l'avrei anche potuto scrivere sopra tipo casella uguale casella punto lower all'inizio che prendeva l'intera stringa e inserita l'utente e la convertiva tutta in minuscolo una volta per tutte all'inizio così non ci penso più mentre invece qua lo sto facendo in modo chirurgico solamente sul primo carattere è uguale insomma per questo tipo di esercizio lo potete mettere qui oppure là da tutte e due parti non serve basta solo uno ok quindi qua lasciamolo visto che l'abbiamo scritto prima sotto mettiamo come commento il primo e questo è semplicemente il trucco che mi permette di considerare come valide anche delle lettere maiuscole perché vengono automaticamente convertite in minuscolo e allora dobbiamo verificare se la colonna è effettivamente compresa tra la e la H allora in Python le stringhe si possono confrontare tranquillamente con gli operatori di confronto maggiore minore uguale così come se fossero numeri e il confronto avviene secondo l'ordine alfabetico praticamente in realtà avviene secondo l'ordine lessicografico definito dalla tabella Unicode però dentro la tabella Unicode non lo conosciamo tutto ovviamente ma abbiamo visto la tabella coi C-A-C in cui le lettere alfabetiche sono tutte una in fila all'altra nell'ordine giusto quindi semplicemente quello che noi possiamo verificare vediamo se la colonna è maggiore di o minore di A ad esempio io posso fare confronti di questo genere quindi sto confrontando due stringhe in questo caso due stringhe hanno la stessa lunghezza e posso usare l'operatore maggiore uguale o minore di confronto io voglio io vorrei la condizione che mi dice adesso qua devo decidere se scrive una condizione che mi rappresenta l'errore oppure una condizione che mi rappresenta il caso fortunato il caso valido è quando colonna è compresa tra A e H estremi inclusi ok quindi posso scrivere se quindi il caso facciamo due o tre prove ok una cosa che possiamo scrivere è se colonna è compresa tra A e H estremi compresi e come dice Rodolfo nella chat si può scrivere così A minore uguale colonna minore uguale H questo è un modo possibile di scriverlo non andrebbe bene ciò che scrive Fabio perché Fabio lo scrive col minore e non col minore uguale e allora escluderei la colonna A e la colonna H perché sarebbero non valide quindi devono essere comprese anche loro questo controllo controlla o verifica che colonna sia effettivamente una lettera sia effettivamente una lettera minuscola e sia una lettera minuscola compresa tra la A e la H quindi per quanto mi dice dove è andato Andrea che mi dice ma dovresti prima controllare che colonna sia una lettera e in realtà lo sto facendo in questo momento lo sto facendo in questo momento perché se non fosse una lettera alfabetica non sarebbe sicuramente compresa tra il codice della A e il codice della H proprio perché nel codice nel codice ASCII le lettere sono tutte consecutive una dopo l'altra se io volesse se qualcuno volesse ma qui non ci serve controllare se un determinato carattere è alfabetico esistono tutta una serie di metodi magari poi vi mostro la slide tra un attimo che ci danno tutta una serie di informazioni sulla natura di una stringa se contiene lettere se contiene numeri se contiene segni di punteggiatura eccetera eccetera va bene più in generale qui abbiamo un problema molto specifico ci servono esattamente quegli otto simboli quindi in questo caso se la colonna è compresa tra le H sono contento io lo posso scrivere così con una doppia disuguaglianza lo potrei anche scrivere così con due disuguaglianze separate quindi colonna maggiore o uguale ad A and colonna minore o uguale ad H queste due fanno la stessa cosa la colonna è compresa tra le H se ovviamente è maggiore o uguale ad A ma contemporaneamente anche minore o uguale ad H ok e questo in questo caso sto scrivendo la condizione che mi dice va bene se io volessi scrivere la condizione inversa cioè quella in cui va male in quella in cui devo scrivere devo stampare un messaggio di errore come lo scriverei proviamo a scrivere la if che mi dice la colonna è sbagliata dovrei scrivere se la colonna scusate non li colonna minore di A or colonna maggiore di H questo mi cattura la condizione inversa rispetto a quella precedente quindi qua ok qua ok qua errore questa condizione che ho scritto qua la riga 23 è esattamente il contrario di quella che avevo scritto la riga 21 cioè se colonna deve essere interna un intervallo deve essere maggiore dell'estremo sinistro e minore dell'estremo destro e minore dell'estremo destro se invece colonna esterna un intervallo deve essere minore dell'estremo sinistro cioè viene prima oppure maggiore dell'estremo destro oppure quindi vedete che qua il connettivo logico da end diventa or ovviamente perché ho invertito la condizione ok quindi dipende un po' se noi vogliamo scrivere catturare la condizione rappresentare la condizione in cui il dato è valido oppure rappresentare la condizione in cui il dato non è valido e quindi dobbiamo solo fare attenzione bene alle disuguaglianze ma questo è un problema quasi di di matematica in un certo senso si può anche scrivere in un altro modo perché questo effettivamente non è molto leggibile se stiamo a vedere questo qui è il più leggibile di tutti cioè compreso tra e h però dire non compreso tra e h non si può scrivere con delle disuguaglianze però noi potremmo scrivere usando letteralmente dire se non è compreso tra e h allora ho un errore quindi sto dicendo la colonna è compreso tra e h no not quindi ho i tre operatori logici che sono and per la congiunzione che mettono insieme più rami più confronti i quali devono essere tutti veri oppure l'operatore or che mettono insieme più confronti uno i quali solo deve essere vero oppure se ho una condizione e voglio trovare l'esatto inverso di questa condizione posso esplicitamente usare not una funzione not applicata a quella condizione queste due sono equivalenti queste due sono equivalenti le prime due sono l'esatto inverso delle seconde due una qualunque di queste quattro va bene l'importante è che sappiamo cosa stiamo facendo attenzione che qua se qualcuno avesse messo un and qui avrebbe scritto una condizione impossibile perché non può essere nessuna lettera minor dell'a e maggior dell'h contemporaneamente non possono essere più piccolo di due e più grande di dieci contemporaneamente ok quindi in questo caso bisogna fare attenzione a non sbagliare allora ci sono un po' di domande che adesso vado a riprendere dunque allora Gabriele mi chiede non potevamo usare elif anziché else e poi if beh in questo caso no perché vedi che tra l'else e l'if abbiamo dovuto fare delle altre operazioni e l'if funziona l'ho potuto scrivere se l'if fosse stata immediatamente successiva all'else ma invece qui faccio else fai un po' di cose e poi dopo che ho fatto queste cose fai dei controlli e però questi controlli ad esempio su colonna non lo posso fare prima di aver effettivamente estratto la colonna e la colonna non la posso estrarre prima di essere sicuro che la stringa è lunga 2 quindi purtroppo quella scorciatoia di controlli a raffica in questo caso non la posso fare perché tra un controllo e l'altro devo fare un pochino di elaborazione dei dati Davide mi dice si potrebbe solamente scrivere che la colonna è minore di h dato che ha il valore alfabetico minore allora ti sei risposto da solo nel senso che scrivere if colonna minore di h sarebbe sufficiente se io fossi sicuro al 100% che colonna contiene una lettera alfabetica minuscola però finora non sono sicuro che contenga una lettera alfabetica minuscola magari l'utente ha scritto punto esclamativo punto esclamativo allora la variabile colonna contiene un punto esclamativo che come codice asci casualmente l'ho scelto a caso perché sono sicuro che è minore del codice della h e quindi un punto esclamativo è minore uguale a h ma non ci piace perché deve essere anche maggiore o uguale a devo essere sicuro che sia nel range delle lettere alfabetiche quindi o prima controllo che in altro modo con altre funzioni se colonna è davvero una lettera minuscola allora se sono sicuro che sia una lettera minuscola mi basta confrontare che sia minore di h ma se non sono sicuro che sia una lettera minuscola devo anche controllare l'estremo sinistro e l'estremo destro dopo di che Andri si torna indietro e chiede perché non hai messo int casella di 1 adesso ci arriviamo perché finora abbiamo lavorato sulla colonna sulla riga ci arriviamo tra un attimo e il motivo per cui non metto int è perché non sono ancora sicuro che casella di 1 contenga effettivamente una cifra numerica abbiamo fatto l'esempio prima se l'utente scrive gg il programma da un errore in questo punto Sassi Sassi credo o Kumari non so qual sia il nome scusami dice ma perché non posso scrivere colonna uguale abcdfg no? come ad esempio provo a scriverlo qua solo per commentarlo non è quello che vuoi fare nel senso che questo confronto confronterebbe se la stringa colonna fosse esattamente uguale a questa stringa di 8 caratteri no? questo confronto di ugualianza richiede due stringhe sono uguali invece tu devi chiederti questo questa stringa di un carattere è uno di questi ma l'operatore di uguale non fa questo confronto l'operatore di uguale va a vedere se questa qui è esattamente identica a questa mentre questa qua contiene solamente la g questa le contiene tutte non si può fare si può fare e poi tra l'altro ve lo faccio vedere con un operatore diverso che si chiama in che va a vedere se una stringa è contenuta all'interno di un'altra allora in questo caso questa condizione colonna in abcdfgh è vera solo se colonna è una di queste lettere qua singole in realtà potrebbe anche se una coppia o una terna basta una sotto insieme una sotto sequenza ma poiché noi sappiamo che è lungo un carattere solo in questo caso andiamo a prendere un carattere solo quindi si potrebbe scrivere in questo modo usando l'operatore in che non abbiamo ancora avuto tempo di vedere anziché l'operatore di uguaglianza Marco posso usare elif l'abbiamo già risposto prima no perché ci sono delle istruzioni in mezzo potevo mettere punto esclamativo prima della parentesi al post del not quindi lui dice potrei usare punto esclamativo come simbolo per fare il not no perché in python gli operatori logici si scrivono per esteso and or not e non si usa la sintassi diciamo così quella del c che usa il punto esclamativo per fare il not quindi il punto esclamativo fa parte del quando qua ho scritto diverso fa parte del simbolo di diverso non è un punto esclamativo e poi l'uguale quindi gli operatori logici si scrivono per esteso and or not python punta molto sulla chiarezza di lettura e non su avere dei simboli strani allora vediamo un po' Francesco si ha un problema con un if so che gli ha risposto Damiano però dice perché questo if è errato non vedo l'errore if la casella è nel formato errato if la in casella diverso da 2 allora l'if in realtà non lo vedo sbagliato però ti segna la colonna la risposta di Damiano dice guarda che devi mettere un f nella stringa va bene per il messaggio perché altrimenti si stamperebbe casella tra parentesi graffe però non mi pare che l'if sia da considerare errato se forse se ti spieghi meglio il comando Mattia vi chiede il comando lower se per caso non fosse una lettera che cosa fa la lascia invariata quindi il metodo lower ritorna una copia della stringa convertita in minuscolo questo è quello che dice la documentazione se andiamo a prendere il link che ci manda oh pardon cosa ho fatto ho fatto così scusate la documentazione di Python ci dice questo bisogna leggere le parole ritorna una copia della stringa con tutti i caratteri convertiti in minuscolo attenzione qui c'è scritto all the case characters cioè tutti i caratteri che hanno un case che possono essere maiuscoli o minuscoli vengono convertiti in minuscolo gli altri sono lasciati tali e quali quindi se per caso qua non è un problema ma se l'avessi fatto qui casella punto lower aveva effettivamente una stringa che conteneva un miscuglio di caratteri letterali e numeri allora la funzione lower non modifica i numeri non modifica i numeri non modifica la punteggiatura non modifica gli altri caratteri modifica solamente le lettere alfabetiche quindi lettere maiuscoli convertiti in minuscolo le minuscole le lascia come sono e tutti gli altri caratteri li lascia come sono e giustamente è il giusto porsi il problema Rebecca invece ci tiene a a essere lunga nelle cose che scrive e lei vorrebbe scrivere if colonna uguale a or colonna uguale b or colonna uguale c e così via fino ad h no? questo è certo che si può scrivere però l'assioma numero uno degli informatici che sono pigri farebbe sì che cerchiamo di trovare delle soluzioni più compatte le soluzioni più sintetiche no? noi dobbiamo anche sempre pensare poi magari non lo facciamo poi magari non ci serve ma se domani ci chiedessero guarda che vogliamo risolvere lo stesso problema ma questa volta su una scacchiera 20x20 anziché 8x8 sarebbe tanto bene che il nostro programma richiedesse modifiche minime cioè per risolvere un problema identico su un un problema uguale su una casistica quasi identica non mi devo mettere a riscrivere mezzo programma no? probabilmente dovrei cercare di fare in modo che il programma che scrivo sia abbastanza generico da potersi adattare sente troppo difficoltà ad altri casi no? che dite? quindi non è sbagliato scrivere una cosa di questo genere però io lo vedrei sconsigliato sia perché è facilissimo dimenticarne una quando ne scrivi devi scrivere 8 cose magari hai dimenticato la H magari dimentichi la I e quindi il programma poi sbagliato esibisce dei problemi strani quindi cerco sempre di andare a catturare il caso più generale in cui mi posso mettere e mai mettermi quando non sono proprio obbligato cerco di non mettermi a fare tutti i casi possibili però ovviamente in questo caso sarebbe assolutamente valido nel senso che se lo scrivi corretto fa esattamente la stessa cosa tutte queste formulazioni sono tutte equivalenti no? questo ovviamente ti dà il caso in cui è ok quest'altra ti dà il caso in cui è ok e invece queste due ti danno il caso in cui c'è un errore ne scegliamo una scegliamo quella che ci piace di più e andiamo avanti quindi io tutte queste alternative adesso le teniamo qui come documentazione gli metto un bel commento davanti a tutte e ne scegliamo una ad esempio quella secondo me più sintetica che questa se A è compreso tra se la colonna è compreso tra A e H allora vado avanti allora adesso devo controllare se il secondo carattere è una cifra compresa tra 1 e 8 ok? allora posso fare la stessa cosa if a questo punto il ragionamento vale uguale se la riga è compresa tra 1 e 8 attenzione però come lo scrivo scritto così è sbagliato perché riga noi sappiamo questo punto che l'abbiamo estratto come il secondo carattere di una stringa e quindi a sua volta è una stringa quindi non posso confrontare una stringa con un numero potrò confrontare riga con la stringa che contiene il carattere 1 e la stringa che contiene il carattere 8 ci mi sto chiedendo il singolo carattere di riga è effettivamente una delle cifre numeriche tra 1 e 8 rappresentate come stringhe? se sì allora va bene chiaramente tutte quelle forme precedenti continuano a essere valide qua sotto però ciò che ho fatto è che finora questa riga e questa colonna sono stringhe e quindi le devo confrontare come stringhe ovviamente se mi riconduco a questi test ovviamente avere due if come state dicendo nella chat consecutive è assolutamente equivalente a mettere una end qui in mezzo e avere una if unica se ho due condizioni in cascata e queste condizioni devono essere entrambe vere allora le posso unire con un unica end fate solo attenzione quando fate questa operazione e le condizioni a loro volta magari contengono una or come potrebbe essere stata questa allora mettere in end due condizioni in or si può fare ma bisogna mettere poi delle parentesi tonde per essere sicuro che le operazioni vengono fatte nell'ordine giusto ok quindi in questo caso a valle di tutto questo ragionamento la forma forse più veloce più rapida di verificare che il primo carattere sia una lettera tra l'a e l'h il secondo carattere sia una cifra tra 1 e 8 è essenzialmente questa questa è la forma più sintetica no e anche secondo me più leggibile se vogliamo essere magari un pochino più espliciti magari mettiamoci delle parentesi intorno perché altrimenti non si capisce quel end lì che diciamo così precedenza ha rispetto al minore uguale in realtà era già giusto però forse è un pochino più esplicito così allora adesso a questo punto siamo sicuri che i dati in ingresso siano corretti sono ancora due stringhe e lo dobbiamo convertire in numero quindi adesso a questo punto tutta questa parte qua di programma deve essere diciamo così indentata perché deve essere eseguita solamente se questa if è vera e quindi se sia la colonna che la riga sono dei caratteri che sono nel range opportuno allora posso passare al punto 3 vedete che il punto 3 lo faccio solamente se questa if è valida e se quell'altra if era falsa cioè ero nel ramo s qui sono nel ramo vero di un ramo falso di un'altra if se ho passato tutti questi controlli finalmente posso arrivare a questo punto determina allora mi dice calcola a questo punto il numero di colonna e il numero di riga allora il numero di riga è facile a questo punto numero di riga è uguale int di riga e finalmente qua facciamo questo int riga sappiamo che è un carattere tra 1 e 8 sono sicuro che contiene un codice numerico al suo interno e quindi posso convertirlo in numero intero numero di colonna è un pochino più complicato per calcolare il numero di colonna vuol dire che la A deve diventare un 1 che la B deve diventare un 2 la C deve diventare un 3 e così via allora lo posso fare anche qua in modo mi vengono in mente due modi uno pedante e l'altro un pochino più difficile ma più veloce il modo pedante è se colonna è uguale ad A allora numero di colonna sarà 1 e l'if colonna uguale a B allora numero di colonna uguale a 2 occhio eh quando faccio i confronti uso sempre doppio uguale che è l'operatore di confronto quando salvo i valori uso l'uguale semplice che è l'operatore di assegnazione e qua devo andare avanti per la gioia di come ti chiamavi Rebecca facendo 8 casi possibili qui copia di solito voi pensate di fare copia e incolla normalmente quello che si fa è copia e incolla e sbaglia no c d e f g 3 4 5 6 7 else numero di colonna uguale a 8 qui sto convertendo di fatto un carattere in un numero facendo tutti i casi possibili ok funziona anche se è un pochino diciamo così pesante da scrivere ma è un modo corretto ci sono altri modi sto vedendo due suggerimenti almeno in nella chat un dice Aldo mi dice ma possiamo usare il codice asci e poi convertirlo in numero intero esattamente questo è il modo più veloce di farlo io vi scrivo l'espressione e poi la commentiamo farei una cosa di questo genere numero di colonna uguale ord di colonna meno ord di 1 più 1 cosa ho scritto qua cerchiamo di vederlo nella console supponiamo che colonna sia il carattere 5 ok la funzione ord che abbiamo visto ieri mi da il codice asci della stringa che contiene quindi in questo caso ord di colonna se la colonna è il numero 5 mi da il numero 53 53 è il codice asci del carattere 5 quindi quando abbiamo un carattere numerico il suo codice asci non è il valore del numero ok è un codice a parte che salta fuori da quella tabella io da 53 devo riuscire a convertirlo in 5 quindi ord di 5 fa 53 se fosse ord di 6 o di 7 diciamo così farebbe 55 allora da ord di 5 per arrivare al 5 cosa devo fare devo sottrargli un numero dunque a occhio cos'è 48 quindi se prendo il codice asci di una cifra e sottrago 48 andando così per tentativi vediamo sembra che funzioni mi da un numero intero innanzitutto sono contento che mi dia un numero intero e poi mi da lo stesso numero intero che corrisponde alla cifra che c'è dentro poi qua ovviamente ho sbagliato l'esempio perché dobbiamo prendere delle lettere alfabetiche se possiamo fare la stessa cosa con le lettere alfabetiche ad esempio or di A vale 97 la colonna B vale la lettera B vale 98 la lettera G che a noi interessava vale 103 allora come faccio a far sì che alla lettera A corrisponde al numero 1 ebbè ho visto che A vale 97 quindi sottrago 96 e alla B anche qua se prendo la B sottrago 96 mi da il valore 2 la C sottrago 96 mi da il valore 3 e così via quindi in realtà quello che scusate qui avevo sbagliato supponiamo che qua dovrei scrivere sopra nel codice alla riga 50 96 quindi la colonna è una lettera or di quella lettera è un codice Asci 103 97 98 sottraendo 96 ottengo un numero intero che corrisponde alla lettera stessa dopodiché 96 cos'è? è un numero magico? no 96 altro non è che il codice Asci del carattere che viene prima della A perché ovviamente se la A deve valere 1 io devo sottrarre un numero che quando gli passo A mi dia esattamente 1 quindi se uno si ricorda cioè leggere in un programma qua 96 dice ma cos'è sto 96 non so che cosa sia è meglio e più comodo farlo calcolare da lui così quindi sto facendo la differenza tra due codici Asci uno del codice che ho e l'altro di una costante questa qua è una costante che di fatto deve essere sottratta al codice Asci di un carattere per avere la trasformazione che voglio cioè la A vale 1 la B vale 2 la C vale 3 e così via allora se uno si ricorda che appunto c'è questo codice Asci è possibile ottenere il codice numerico del numero usando l'operatore OR che mi dà un intero può arrivare diciamo così a scrivere questa formula che fa esattamente la stessa cosa della catena di IF precedente esattamente la stessa cosa alla fine calcola lo stesso risultato e questa è un'altra possibilità allora un paio di un paio di commenti rispetto a un paio di risposte ai vostri commenti della chat Damiano mi chiede se esiste in Python il comando switch la risposta è no nel senso che attenzione cosa dice Jonathan Jonathan dice guarda che la versione 3.10 hanno introdotto qualche cosa che sembra lo switch del C non fatevi ingannare non funziona come lo switch del C ok è un sintassi simile ma in realtà fa una cosa completamente diversa nel senso che va a controllare diciamo così la struttura fa uno switch sulla forma delle strutture dati e non sul valore quindi non cercate di fare il parallelo tra lo switch del C e l'istruzione case che hanno introdotto nel Python 3.10 non si usa nello stesso modo e non fa la stessa cosa secondo me sarà una fonte di confusione infinita però purtroppo l'hanno fatta così quindi in Python non esiste uno switch così come c'è in C così come c'è in Java si fa gli elif punto Marco mi dice nel caso in cui la lettera e il numero non siano compresi tra i valori che abbiamo messo dobbiamo chiaramente ci manca un else forse giustamente lui vede lungo e dice guarda che tu hai fatto questo if e allora se l'if è valido allora stai facendo dei calcoli che non abbiamo ancora finito di fare ma poi dovrò mettere da qualche parte un else che stampa ovviamente i valori le coordinate non sono valide quindi noi abbiamo scritto qua la condizione alla riga 27 fatemi collassare il codice questi più e meno permettono di aprire o chiudere dei blocchi di codice quindi a questa condizione qui abbiamo detto se le coordinate sono giuste faccio queste cose che adesso stavamo scrivendo altrimenti devo stampare che le coordinate non sono valide altrimenti rimane questo if senza un else e non si capisce cosa deve fare nel caso in cui questa condizione sia falsa ok l'altra allora il ragionamento che fa Nunzio è valido nel senso che dice ma io basta che guardi il codice ASC di questo verifico se è pari o dispari perché in realtà a me se parafrasando quello che dici non mi interessa qual è il numero della colonna mi interessa solamente se sia una colonna pari o dispari e allora guarda caso il codice ASC dell'A è 97 ed è dispari e quindi basta che io vada a vedere se è pari o dispari il codice ASC non ho bisogno di convertire il 97 in 1 ci può anche stare come ragionamento io ho seguito quello che mi ero deciso di fare determina il numero della colonna quindi avevo deciso che volevo convertire A in 1 volevo convertire H in 8 e sto facendo questo quindi lo sto implementando seguendo diciamo così lo pseudocodice che avevo scritto prima per seguire quel ragionamento se no il ragionamento che fai tu è altrettanto valido è un modo diverso c'era un altro commento che era di Gioele e diceva guarda io potrei anche cercare di capire l'elemento colonna dove si trova all'interno della stringa ABCDEFGH e quindi sapere allora questo in realtà ha anche senso si può fare nel senso che io dovrei trovare in che posizione si trova colonna all'interno di ABCDEF di H questo è un altro modo di trovare lo stesso problema si può fare adesso non entro nel dettaglio con una funzione che si chiama index in questo caso direi che è il numero di colonna uguale ABCDEFG H punto scusate non è index ma è find di colonna quindi questo metodo find ma poi lo vedremo con più calma è se vogliamo la versione più potente di questo operatore in che anche questo dobbiamo ancora vedere con più calma l'operatore in mi controlla se una stringa è presente all'interno di un'altra il metodo find mi dice dove si trova quella stringa quindi se questa fosse se colonna fosse una A si troverà nel carattere 0 se colonna fosse una G si troverà nel carattere di indice 6 cioè il settimo quindi alla fine per riportare cosa a posto devo sommare un 1 quindi questo è un altro modo di farlo lo metto come commento perché sta usando un metodo che non conosciamo ancora che non abbiamo ancora studiato con calma Alexis mi sta chiedendo dettagli su cosa vuol dire ORD A-1 beh è quel numero magico 96 che fa sì che sottratto dalla A mi dia valore 1 ok è come quando fai una traslazione sul piano sulla retta per calcolare la distanza fai la x meno l'x con 0 ecco questo sarebbe x con 0 il punto scegli un punto in cui vuoi che la funzione valga 1 e quindi sottrai il valore di quel punto meno x con 0 meno l'1 che è il valore che vuoi sul metodo fine ci torniamo non ci perdiamo adesso in questo dettaglio perché fa parte dei vari metodi di analisi delle stringhe ce ne occupiamo la settimana prossima visto che il tempo sta finendo sia l'in che il find però li ho indicati perché giustamente saltavano fuori nel discorso e diciamo nelle slide che sono dalla slide 100 in avanti verso il modo di questo capitolo studieremo e lo vediamo la prossima volta delle funzioni che che ci permettono di analizzare il contenuto di una stringa quindi cercare estrarre dei pezzi vedere se contengono certi caratteri eccetera però lo facciamo con calma adesso dobbiamo chiudere questo esercizio dobbiamo finirlo siamo a un passo dal finirlo nel senso che o con la serie di if o con la ginnastica sui codici asci oppure usando delle altre funzioni delle stringhe che magari impareremo quindi andando a cercare all'interno delle lettere possibili sono solo tre delle soluzioni possibili ce ne possono essere altre ho trovato il numero di righe e il numero di colonne adesso mi chiedo se la somma del numero di righe più il numero di colonne è pari oppure dispare finalmente quindi se la somma del numero di riga numero riga più il numero di colonna è un numero pari pari si scrive il resto della divisione per 2 fa 0 allora il colore sarà dunque i pari sono neri altrimenti il colore sarà bianca e ho scritto in python esattamente ciò che c'è scritto qua la somma numero di righe più il numero di colonna verifico se è pari se è pari nera altrimenti bianca e quindi finalmente posso arrivare a questa stampa in print in cui dico F formatted string F string la casella casella è colore Speriamo sia vero proviamo a eseguire il programma e vediamo cosa sta fuori quindi se c'è una coordinata casella G5 che è l'esempio con cui abbiamo lavorato la casella G5 è nera è vero? sì proviamo con A1 eseguiamo il programma di nuovo A1 H1 è nera ok ma non mi dirà che sono tutte nere? no proviamo con B3 B3 è bianca giusto no? B3 questa qua è bianca quindi con dei dati sensati sembra che sia giusto prendiamo un'altra casella questa qui D6 D6 fa la nera no? D6 D6 è nera benissimo e se provassi a scrivere D6 con la D maiuscola sappiamo che deve funzionare la casella D6 è nera giusto? sì ok e se mettessi invece una lettera sbagliata quindi mettessi K5 mi direbbe che le cordiate non sono valide va a finire su questo if qua della riga 66 se scrivesse invio senza nulla mi dice che la casella nulla è in formato errato perché è lunga 0 carattere anziché 2 il nostro amico prima voleva scrivere G5 e ovviamente noi lo rifiutiamo se scrivessimo 5G non ci piace se scrivessimo GG non ci piace perché tutti i controlli che stiamo facendo adesso qui abbiamo un messaggio di errore un po' generico le coordinate non sono valide ma perché o l'una o l'altra o la prima o la seconda delle lettere non sono comprese nel range che ci serviva nell'intervallo di valori validi leciti che avevamo previsto ok quindi alla fine se vogliamo il cuore dell'algoritmo è questo la conoscenza che abbiamo sulla scacchiera che ci permette di capire se è bianco o nero alla fine è questo sono queste tre righe qua cosa viene sopra? sopra viene tutta una parte di controllo dei dati acquisizione dei dati controllo dei dati e poi preparazione ad esempio qua converto da lettera a numero da string a intero diciamo così manipolazione e conversione dei dati nel formato che mi è più comodo per fare l'operazione chiave che è questa poi noi ce la siamo presa comoda l'abbiamo approfittato per studiare le varie soluzioni le varie possibilità per arrivare a questo punto qua però se andate a contare il numero di righe di programma alla fine non sono tante togliete tutti i commenti immaginate che al posto di questo blocco di if ci sia solamente questa istruzione alla fine abbiamo scritto un programma di 10 righe 15 forse alla fine quindi non è queste 66 non ci devono spaventare perché a buona parte sono commenti oppure modi alternativi di risolvere la stessa cosa e ci tengono a ribadire che noi abbiamo comunque seguito un ragionamento dall'inizio e poi via via abbiamo raffinato aggiungendo dei dettagli aggiungendo delle implementazioni via via ai vari pezzettini di questo ragionamento quindi abbiamo alla fine un programma che implementa l'algoritmo di cui siamo partiti a ragionare sullo pseudocodice in questo caso ci è andata bene nel senso che la prima volta che abbiamo fatto run non ha dato errori ma avrebbe anche potuto dare errori errori più o meno semplici tipo errori di sintassi errori più o meno subdoli perché se per caso immaginate che io avessi scritto qua un 3 al posto di un 4 avrei avuto tutti i valori delle colonne D tutti sballati però vattene a accorgere devi provarlo accorgersene eccetera eccetera quindi in alcuni casi ci sono degli errori magari anche delle sviste banali che ti permettono fanno sì che il programma mi dia un dato sbagliato ma solo in alcuni casi ecco quello è divertente puoi andare a cercare e correggere l'errore dunque Andri mi chiede se il compilatore capisce che è un errore avere una lettera int casella di 1 perché dobbiamo inserire qualcosa che un compilatore farebbe già per dire che è un errore allora ok Andri mi sta dicendo guarda io so che se fai int di riga e questa riga non è un numero so già che mi genera un errore e ho capito però un conto è per un utente normale vedere scritto in italiano in modo gentile le coordinate non sono valide e ti spiego anche perché un conto è avere un programma che a un certo punto ti sputa un messaggio di errore in rosso e non è detto che l'utente che usa il programma capisca cosa sta succedendo ok quindi normalmente bisogna sempre riuscire a evitare che gli errori che diciamo che il programma si interrompa con un errore che è un errore di programmazione ok un errore di programmazione perché non tiene conto di un dato possibile che per me è un dato non valido e quindi va trattato a parte come dato non valido ok quindi è chiaro che io avrei potuto buttare via tutta la parte di validazione tutti i controlli dei dati dicendo senti facciamo finta che casella sia scritta giusta allora sarei potuto passare direttamente dalla riga 13 di fatto alla riga 50 dicendo se poi l'utente ha scritto una stringa troppo corta una stringa sbagliata il programma si blocca con degli errori ecco questo però dobbiamo evitarlo non è la stessa cosa per l'utente finale che non siamo noi programmatore ma chi usa il programma non è la stessa cosa vedersi un messaggio di errore che spiega cosa è andato storto da un errore in cui non capisci se il programma è sbagliato o se tu che hai sbagliato inserire i dati o non hai capito come funzionava Michele mi dice per determinare il numero della colonna ho lasciato attivo anche sì qua in realtà o questa serie di if o questa istruzione 50 una delle due è sufficiente io in realtà non ho commentato né una né l'altra quindi in realtà lo calcolo due volte inutilmente però una sola delle due è sufficiente ok la mia preferenza chiaramente sarebbe per questa ma non è detto ecco non è detto che nel contesto real ci venga in mente di farlo così a me piace sempre piace sempre avere un piano B se mi ricordo il codice ASCII mi ricordo la funzione ORD faccio così e me la cavo con una riga se non mi ricordo non mi posso disperare trovo altre soluzioni trovo altre soluzioni così o trovo altre soluzioni magari appunto mi ricordo che c'è la funzione find e quindi faccio dei giri anche molto diversi e uno vale l'altro nel senso che alcuni possono essere più veloci altri meno ma quello che conta è quello che sapermela cavare in quel momento trovarmi una soluzione tra le n possibili che è quella che mi viene in mente poi magari mi viene in mente una migliore ma almeno non mi blocco cioè non dovete mai pensare se non mi ricordo quella funzione lì sono bloccato e non so che cosa fare no ci sono 100 modi di fare ogni singolo passaggio Andrea mi chiede si possono raggruppare le righe del leaf quindi non andare a capo no la risposta è no cioè in python gli spazi sono importanti e quindi vanno conservati sia l'indentazione che la capo quindi non c'è un trucchetto per scrivere se c'è un'istruzione solo o una riff sulla stessa riga ma non è assolutamente consigliato in python quindi non importa tanto non le pagate le righe di codice nello schermo e quindi va benissimo anche se sono molte Claudio ci sta raccontando che ha giocato sul fatto che il codice asci sia pari o dispari va bene lo stesso già Nunzio aveva fatto un ragionamento simile ovviamente va bene lo stesso l'importante è che chiaramente la somma pari o dispari il controllo che fai qua pari o dispari lo fai non con il numero di colonna ma con il codice asci della colonna lo trovo meno intuitivo ma sicuramente calco lo stesso risultato quindi è giusto se Giulia ti dice che ti stampa le graffe è perché non hai messo la f davanti ricordiamoci che la f string è per poter interpolare i valori dentro le parentesi graffe devono avere la f davanti in modo che il compilatore sappia che quella stringa deve essere modificata ok abbiamo raggiunto le ore 13 ma contemporaneamente alla soluzione dell'esercizio quindi io propongo di fermarci qua pubblicherò adesso subito il file l'altro esercizio che vi volevo proporre è l'ho scritto nella chat è un esercizio più classico più semplice provare a fare un programma che risolva l'equazione di secondo grado in cui acquisisco i coefficienti abc quindi non ci sono casini con le stringhe con le un pochino più complicate come abbiamo visto oggi un programma che acquisisca tre valori abc e mi stampi i valori di x che soddisfano ax2 più bx più c facendo attenzione a gestire tutti i casi possibili quindi equazioni con una soluzione con due soluzioni con zero equazioni che in realtà degenerano in equazioni di primo grado equazioni di primo grado diciamo così impossibili indeterminate eccetera eccetera vedere se riusciamo a vedere tutti i casi possibili sono alla fine una serie di if con una serie di calcoli molto semplici aritmetici inframezzati agli if quindi questa qua magari provate a farla ce la condividiamo via chat e vediamo per la settimana prossima di confrontare le soluzioni ok io per ora mi fermo qua noi ci vediamo martedì in laboratorio in laboratorio vedrete che ci sono alcuni esercizi soprattutto quelli indicati da fare per casa già questa settimana lo erano che richiedevano degli argomenti che non abbiamo ancora fatto lezione ma che non avrete ancora fatto entro martedì ma sono stati fatti in questa settimana quindi è normale così nel senso gli ultimi esercizi di laboratorio sono da fare nei giorni successivi in attesa del laboratorio successivo ok va bene non vi trattengo oltre vi ringrazio vi saluto ci vediamo la settimana prossima grazie